Bisogna spegnere le luci, la festa è finita, ma si chiede di poter ballare ancora. La comunità montana della Valle Seriana Superiore si è riunita giovedì sera per l'ultima sua assemblea, ma durante l'incontro, anziché accettare la proposta di fusione collegiale così come ha richiesto il Pirellone, è stata approvata all'unanimità una mozione che ribadisce con forza e convinzione la contrarietà del territorio verso la fusione. Si chiede insomma alla regione di rivedere il DCR 8720 del 28 ottobre del 2008, che prevede la nascita di un maxiente di 38 comuni comprendenti quasi 140.000 abitanti, e si suggerisce alla Pirellone di lasciare vivere ancora l'ente dell'Alta Valle. Forte l'emozione del presidente della comunità montana Lucio Fiorina, che ha ricordato tutti gli sforzi di 30 anni fa per ottenere il riconoscimento di due enti sovracomunali in valle. L'avventura era iniziata con la legge 1102 del 1971, che istituiva sui territori svantaggiati le comunità montane. Prima era nata un'unica comunità, poi il riconoscimento di due. Ora il territorio sembra uscire sconfitto rispetto al potere della regione, dove sembra che la politica bergamasca conti davvero poco, tanto meno la rappresentanza della gente di montagna. Le motivazioni con cui si chiede di poter sopravvivere sono ormai note, si parla di diseconomia nella fusione, di difficoltà nella gestione dei servizi, di un territorio troppo eterogeneo, di una necessità di una maggiore prossimità verso i cittadini delle aree di montagna nell'erogazione dei servizi. Ma mentre la regione chiede l'arcoppamento, anche lo Stato fa la sua parte, tagliando inesorabilmente i finanziamenti, che dal 2007 al 2009 sono diminuiti dal 75%. Ecco allora che la voglia di poter andare avanti unisce ogni schieramento in comunità montana. Anche la minoranza consigliare ha partecipato alla discussione del testo della mozione, chiedendo di esprimere maggior fermezza. Con una forte e convinta contrarietà, è stato chiesto quindi alla regione di reesaminare il suo provvedimento, lasciando inalterato l'ambito dell'attuale comunità montana della Valle Seriana Superiore, unico ente in grado di garantirci un autentico riequilibrio dello sviluppo socio-economico fra aree deboli e aree forti. La speranza però è l'ultima a morire. Martedì due consiglieri regionali bergamaschi chiederanno la convocazione della seconda Commissione Affari Istituzionali per chiedere una nuova politica per la gestione delle comunità montane, anche in previsione della prossima riforma dagli enti locali. Mi sono trovato abbastanza in difficoltà a dover chiudere con questa Assemblea la comunità della Valle Seriana Superiore, dopo aver contribuito con altri amici come l'On. Gianni Gaiti, il Regione del Furia, il Maestro Poloni, la Professoressa Giosina Inberti, aver contribuito con forza a costruire questa comunità montana dal 1973 in poi. Per cui stasera vedere che questa, probabilmente l'ultima Assemblea, mi ha veramente commosso, anche perché ho pensato al lavoro fatto in questi anni, ho pensato al valore di questa comunità montana rispetto ai problemi del territorio, rispetto ai problemi della gente e quanto questa comunità va bene contribuito alla crescita socio-economica della nostra opinione pubblica.